Grandissima giornata qui al Palazzetto dello Sport oggi per un grandissimo incontro Torneo Risicato del 4 dicembre, siamo molto soddisfatti di questa giornata, di come staranno andando soprattutto le nuove iscrizioni, abbiamo tantissime iscrizioni nuove sia per Parma che per quanto riguarda anche provincia, di nuovi ragazzi che si avvicinano al mondo della pallavolo e devo dire che sarà una grande stagione e siamo molto soddisfatti di questi risultati